Chi è? Che spavento. Cosa c'è? E' quella che si ha avvelenato. E perché? Che ne so io? Forse c'è un terno sicuro. Delena 18. E poi qualche altra notizia che mi dà meglio. Eh sì, adesso vado a dare notizie. Eppure li ha azzeccati tutti i numeri, sa? La guardia 24. Io sarei 24. E già, la Sevilla mi si gioca con uno 24. E che io 24? Non ci pagherebbe altro. La gente che a cavallo non si gioca l'otto. Ha capito? Stia zitti, vada via. E allora mettiamo la polizia? Quattro. Metta quattro. E allora facciamo quattro, 18, 40 e 78. Come ha detto? Come ha detto? Quattro. Quattro? 18. 18, 40 e 78. 78.